All'Aquila le vaccinazioni per l'influenza stagionale si continueranno a fare per i pochi giorni utili che restano a disposizione dei cittadini negli ambulatori di Colle Maggio, mentre l'attività di tutti gli altri vaccini è stata già spostata il 22 dicembre scorso nei nuovi accoglienti locali dell'ospedale San Salvatore, che dispone di due ambulatori, due sale d'aspetto, spazi per depositi di farmaci e area frigorifero. A proteggersi contro l'influenza stagionale i ritardatari faranno ancora in tempo. Sebbene in via ufficiale la campagna di vaccinazione si sia conclusa il 31 dicembre scorso, l'ASL lascia aperta la porta a coloro che, rientrando nella popolazione a rischio, non hanno ancora fatto la vaccinazione. L'imperativo che però arriva dall'azienda sanitaria è di farla al più presto, senza ulteriori indugi. Tutti i centri vaccinali dell'ASL ancora per pochi giorni saranno infatti a disposizione degli utenti distratti. Il reiterato invito a proteggersi, anche se la campanella di chiusura è suonata il 31 dicembre, è tanto più importante se si considera che il virus nemico annuale, veicolo dell'influenza, è ormai alle porte. Infatti nei prossimi giorni sono previsti i primi casi, mentre il picco è collocato come previsione di massima nella prima decada del prossimo febbraio. All'Aquila le vaccinazioni per l'influenza stagionale continueranno ad essere somministrate a Colle Maggio, mentre le altre attività, come dicevamo, si sono spostate. I medici del Servizio Egiene e Sanità Pubblica dell'ASL, che fa capo al Dipartimento di Prevenzione diretto dal dottor Pompei, a ogni occasione rinnovano l'appello a vaccinarsi, ricordando che è l'unica difesa efficace contro la carica patogena del virus stagionale. Finora, secondo il primo dato elaborato dall'ASL in tutta la provincia dell'Aquila, sono state inoculate tra il 10 novembre e il 31 dicembre oltre 24.000 dosi di vaccino. Si tratta però di una cifra destinata ad assumere valori molto più alti, non lontani dalle 30.000 dose. Ciò perché quest'anno il Servizio di Egiene e Sanità Pubblica dell'ASL ha adottato un sistema informatizzato in sostituzione dei precedenti vecchi registri cartacei, da cui si tiravano fuori i dati solo dopo lunghi e laboriosi conteggi. Quest'anno il nuovo apparato sulla base dei dati inseriti ha subito fornito il riscontro economico, che però dovrà essere aggiornato con l'aggiunta di una consistente quota di dosi non ancora immessa nel cervellone informatico.